Stefano Petracca, amministratore di Gemelli Molise, lo aveva anticipato a Palazzo San Giorgio a Campobasso nel corso del Consiglio Comunale dedicato alle prospettive della sanità molisana. La struttura privata dal 1 marzo ha iniziato a rallentare il servizio di radioterapia. Vanno avanti le cure per i malati in carico, ma al momento non vengono accettati nuovi pazienti. Sulla vicenda e più in generale sulle condizioni dei malati onco-ematologici intervengono con una nota cittadinanza attiva e le associazioni AIL e LILT, i rappresentanti dei rispettivi sodalizi, hanno scritto al nuovo subcommissario ad acta Marco Bonamico. Quello che viene chiesto è un intervento strutturale che porti all'attivazione della rete oncologica regionale e il centro unico di prenotazione all'interno del quale possano confluire anche gli operatori privati. Ciò consentirebbe un governo del sistema e un monitoraggio puntuale e riduzione dei tempi di attesa. Quello che è importante è istituire la rete regionale dell'oncologia, perché è lo strumento che garantisce l'omogeneità sia dei processi che dei percorsi di cura e assistenza di questi malati, perché questo è quello che oggi non c'è e che quindi è venuto fuori. Lo strumento che è ulteriormente importante è quello che riguarda il CUP, perché il CUP è uno strumento di tutela del cittadino, perché il piano regionale delle liste d'attesa prevede che le strutture pubbliche e private accreditate devono confluire nell'unica agenda, perché è lo strumento di tutela per il cittadino. Quindi quello ti garantisce di verificare il tuo stato di prenotazione, che vengano rispettati i codici che il medico segna sopra la ricetta, quindi abbiamo l'urgenza, quelle differite, quelle breve, e quindi abbiamo quattro codici che vengono segnati sulla ricetta e soprattutto il cittadino quindi può verificare chi c'è prima e chi c'è dopo. E ovviamente se le strutture private accreditate non confluiscono all'interno del CUP, si possono creare dei problemi. Questi adesso li stiamo vivendo, insomma, in questi giorni, perché ormai siamo tutti a conoscenza delle problematiche che sono venite fuori. Obiettivo di ogni iniziativa sul tema viene ribadito, è sempre quello della tutela dei malati e del diritto alla cura. Noi come AIL Campobassi Sernia siamo sempre dalla parte dei pazienti conguematologici. Noi ci siamo messi insieme con le altre associazioni perché condividiamo tutti questi principi. e quello che posso dire è che io, anche personalmente, che tutti i giorni sono in riparti onguematologici, quello che posso dire è che il paziente non può aspettare, cioè non possiamo aspettare che si risolvano queste beche politiche, burocratiche, legali, insomma. Io quello che vedo è che c'è bisogno di cure, e cure immediate, quindi non c'è da perdere tempo.